Fatti saluti, iniziare con la nostra prima sessione che verrà moderata da Maddalena Modesti. L'obiettivo un po' di questa sessione è di raccontarvi rapidamente quello che stiamo cercando di portare avanti al Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, appunto con Silvio Peroni, Paolo Italia e Maddalena Modesti e vorrei anche ricordare che non è del FICLIT ma il contributo fondamentale di un collega che lavora, con cui lavoriamo veramente ormai da un sacco di anni, ci siamo conosciuti che io stavo scrivendo la test di laurea, per cui di anni ne sono passati, che è collega del DISI, cioè del Dipartimento di Informatica, Scienze e Ingegneria, come è del DISI anche il collega Peroni, quindi ogni tanto anche gli informatici si salvano, ed è Fabio Itali che ovviamente ringrazio anche per essere già qua con noi. Maddalena, ti vuoi mettere tu qui? Bene, buongiorno a tutti, buongiorno, permettetemi anzitutto di ringraziare a mia volta Francesca, agli organizzatori, la biblioteca universitaria che ci ospita e voi che siete qui nella bellissima cornice dell'Aula Magna, ma anche coloro che ci stanno seguendo da casa. Ecco il mio compito, come ha anticipato Francesca, è quello di introdurre la prima sessione di questa giornata, che sarà dedicato alla presentazione di un progetto molto ambizioso, molto complesso, il progetto BOLD, che è un progetto promosso dal Dipartimento di Filologia Classica Italianistica, che punta alla ricerca, al mondo della scuola, alla didattica, anche al mondo del lavoro, e che si fonda sull'idea, come è stato un po' anticipato anche poco fa da chi ne ha preceduto, sull'idea di una sinergia fondamentale tra i saperi tradizionali e i nuovi linguaggi, e le nuove tecnologie. Ecco, poiché la giornata è molto ricca e molto densa, io non mi dilungherei troppo in preamboli, quindi lascerei la parola a Francesca stessa, che vi presenterà il sito di BOLD. Molto rapidamente, in realtà, è solo per sfogliare, assieme a voi, l'ultimo prodotto, appunto, di quello che poi vi racconteremo invece nel dettaglio, cioè l'offerta formativa del corso di laurea, il centro di ricerca, il dottorato, la digital library, gli spazi di acquisizione digitale delle risorse, l'importanza della terza missione. Quindi, BOLD è l'acronimo che abbiamo immaginato, che sarebbe ovviamente per Bologna digitale umentis, ma al contempo BOLD dovrebbe essere sufficientemente allusivo, per far capire l'enfasi che vogliamo ovviamente mettere su questi concetti, ve lo scorro molto rapidamente, perché l'obiettivo è in un modo assolutamente molto semplice, diretto e immediato, per raccontare BOLD come un ecosistema che combina, come diceva già Maddalena, formazione, ricerca e realizzazione di progetti digitali, su questo insisteremo molto nell'arco della giornata, nel settore delle digital humanities. Qui vedete quello che in qualche modo rappresenta il cuore delle nostre ricerche, quello che accomuna l'attività che viene portata avanti nel corso di laurea, nel dottorato, nel centro di ricerca, nel laboratorio, quindi i temi dell'organizzazione, della rappresentazione della conoscenza, del data science, del semantic publishing, della linguistica computazionale, della filologia digitale, ma lo scopo, a parte appunto di enfatizzare l'importanza del settore, è quello di, e ci siamo un po' immaginati, questo BOLD, come un processo di progressiva alimentazione dell'ecosistema attraverso le sue componenti, quindi siamo partiti con un corso di laurea, abbiamo continuato con un dottorato, abbiamo un laboratorio di cui appunto parleremo poi nel dettaglio di tutti questi petali del fiore, un laboratorio per l'acquisizione digitale, abbiamo un centro di ricerca, che ospita anche ovviamente tirocini e attività finalizzate a fare ricerca nelle digital humanities, abbiamo uno spazio in cui gli studenti possono condividere i loro progetti, che in qualche modo qualificano il portfoglio acquisito nell'arco della formazione, una digital library, quindi uno spazio di disseminazione di tutta la conoscenza prodotta, per creare appunto l'ecosistema, per completare questo fiore che in qualche modo è il risultato della combinazione di tutti questi ambiti. E per raccontarvi brevemente alcuni di questi ambiti, direi che ripasso la parola a Maddalena affinché ciascuno di noi possa raccontarli. Un ringraziamento particolare a Marco Grasso, che è l'ideatore dell'interfaccia, che devo dire particolarmente prendi. Lancio per questo le slide, poi ve l'abbiamo già fatto. Allora, chiamerei e inviterei Silvio Peroni, che è il coordinatore del corso di laurea internazionale magistrale in Digital Humanities e Digital Knowledge e vi lascerei la parola proprio per presentare le attività del corso e la struttura del corso. Grazie mille, buona domanda. Allora, la faccio in piedi intanto perché se no, ripeto, mi sento mancare a non vedere la platea, spero che mi sentiate, alzerò un pochino la voce nell'eventualità. Il corso che ho preso in carica veramente da poco, perché è successo tutto l'anno scorso, a novembre dello scorso anno, deve la sua nascita, come già ripetuto più volte, a Francesca, e questo bisogna fondamentalmente riconoscerlo, perché tutto quello che è stato costruito negli ultimi sette anni è stato un suo lavoro. Io ho semplicemente ereditato una macchina che già andava a mille all'ora, quindi è facile, quando uno sale su una macchina che va a mille all'ora basta tenere il volante dritto, quella va. Comunque nasce nel 2017, è un curriculum molto multidisciplinare che ha come obiettivo centrale quello di cercare di, diciamo, instaurare o facilitare le connessioni che esistono tra le materie tipicamente umanistiche e tutte quelle scienze computazionali con particolare riferimento alle scienze dedicate alla rappresentazione e all'elaborazione dell'informazione e della conoscenza. Il corso è composto, diciamo così, da tre pilastri fondamentali che lo reggono, sono pilastri disciplinari. Ovviamente c'è il pilastro dedicato alle discipline letterarie, linguistiche e storiche, soprattutto quelle che fanno riferimento, che studiano il patrimonio culturale nel contesto digitale. L'altro grande pilastro è tutto quello che viene fatto e insegnato relativamente alle discipline informatiche che sono, soprattutto il primo anno del corso, diciamo, argomento preponderante e dove noi cerchiamo di offrire agli studenti tutti gli strumenti, sia teorici sia pratici, che poi devono essere messi a sistema e utilizzati nel contesto di tutti gli altri corsi. E per noi è assolutamente uno dei pilastri centrali di tutta la narrativa, diciamo, di insegnamento di DHDK. E in più ci sono degli altri corsi contestuali che costruiscono intorno a questa narrativa che riguardano, diciamo, discipline economiche, di giurisprudenza e di comunicazione. Tutti i corsi sono caratterizzati da due aspetti pregnanti. Ovviamente c'è un aspetto prettamente teorico dove si introducono le teorie, gli strumenti, le metodologie, che però non sono mai considerati fini a se stessi. Vengono sempre contestualizzati in un ambiente molto pratico. Questa, diciamo, praticalità del corso viene sempre messa in piedi utilizzando degli esempi reali, esistenti, che partono o da dei progetti che noi stessi docenti seguiamo in quel particolare momento sull'ambito delle digital humanities o comunque si rifanno a scenari reali presenti sia a livello nazionale sia a livello internazionale. E questo, diciamo, aspetto pratico è integrato in modo molto centrale, molto preponderante in praticamente tutti i corsi mediante l'ausilio di sviluppo, diciamo così, della richiesta da parte degli docenti verso gli studenti dello sviluppo di progetti che però devono essere fatti non da soli, ma in gruppi, in gruppi, diciamo così, auto-creati da parte degli studenti perché è importante in qualche modo contestualizzare quello che poi lo studente una volta laureato troverà nell'ambiente lavorativo che fondamentalmente il digital humanities non è una persona che lavora da sola nella Torre d'Avorio, chiamiamola così, è una persona che lavora in un contesto multidisciplinare di gruppo e quindi abituare gli studenti a lavorare fin da subito a livello progettuale in gruppo è assolutamente un aspetto centrale di tutta la narrativa e diciamo l'insegnamento che viene erogato tramite il corso di Digital Humanities e Digital Knowledge. Il numero degli iscritti a livello generale è in aumento, anno dopo anno noi vediamo che ci sono sempre più iscritti al corso, la maggior parte di questi giusto per sfatare la classica domanda che molti studenti mi fanno all'inizio ancora prima di provare ad applicare per il corso è sì ma questo corso Digital Humanities sarà frequentato da umanisti ma anche da persone diciamo che arrivano più da materie STEM più da materie diciamo scientifiche in senso matematica informatica eccetera eccetera no la maggior parte degli studenti ha una laurea triennale in un ambito umanistico tipicamente quindi il grosso la grossa mole più del 95% degli studenti in realtà arriva da una triennale umanistica il numero di intakes che sono questi momenti di di confronto e selezione per eventuali candidati aumenta di anno in anno quest'anno abbiamo fatto più di abbiamo ricevuto più di 300 domande per accedere al corso il corso non è un corso a numero chiuso giusto per chiarire ma ovviamente una valutazione del candidato per capire se l'intrapendenza e comunque le conoscenze di base sono state acquisite che gli permettano quindi di entrare dentro il corso di digital humanities in modo efficace in qualche modo viene fatta tramite gli intakes intakes quest'anno più di 300 domande acquisite e altre tanti orali per valutare ogni singola persona fatta da una larga componente del collegio docenti del corso che ringrazio pubblicamente perché è un lavoro veramente inumano da fare durante tutto l'anno la maggior parte dei laureati del corso optano spesso per fare un tirocino il tirocino è un'entità all'interno del corso di HDK molto ben considerata spesso gli studenti chiedono il tirocino sia di farlo o dentro un centro di ricerca o comunque anche in azienda anzi molti chiedono appunto un tirocino aziendale proprio per iniziare l'esperienza fuori dall'ambito del corso fin da prima molto prima della loro laurea ci sono varie offerte di tirocino che abbiamo che coinvolgono molte aziende ci sono anche due modalità di tirocino diverso c'è anche il tirocino associato alla tesi che uno può percorrere quindi potenzialmente uno studente potrebbe addirittura fare due tirocini durante il percorso di laurea che è una cosa sempre ben vista e abbiamo registrato come già notava il professor Dionigi all'inizio nella parte di introduzione di questa giornata un tasso di occupabilità occupabilità elevatissimo tutti gli studenti dopo un anno dalla laurea fondamentalmente hanno trovato lavoro che è diciamo un traguardo incredibile che il corso è riuscito a raggiungere secondo me da evidenziare in modo preponderante ammetto anche che in realtà molti degli studenti trovano lavoro prima di laurearsi è una dinamica che ho già visto chiedere più e più volte tanto che spesso concludono la laurea essendo già assunti dall'azienda magari dove hanno fatto il tirocinio all'interno di DH di campo quindi è una cosa bellissima secondo me da evidenziare non entro nel merito di che è una lista infinita dei possibili sbocchi lavorativi e dei ruoli che i vari laureati in Digital Humanities possono avere nel contesto di ambiti aziendali istituzionali o di ricerca prettamente di ricerca e chiudo semplicemente evidenziando come ci sia un thread anche crescente negli anni del numero di laureati che vedete siamo partiti nel 2019 c'erano i primi laureati quell'anno ovviamente il primissimo anno accademico che era il 17-18 mano a mano questo trend è aumentato nel 2023 siamo a 28 ma manca l'ultima sessione quindi in realtà quel 28 è destinata ad aumentare in fine ottobre novembre proprio perché ci sarà l'ultima sessione dell'anno accademico e brevemente giusto per ribadire è un corso molto internazionale abbiamo studenti che provengono da tutto il mondo ovviamente c'è una buona parte di studenti italiani come potrete immaginare ma ci sono una buona parte di studenti europei e un affolto numero di studenti internazionali che vengono tutti coinvolti in questo ambiente che secondo noi è un ambiente molto vivo a livello anche culturale proprio per questa diversità culturale che ospita all'interno della propria delle proprie lezioni dei propri corsi del percorso di due anni questo è quanto non voglio tediarvi di più e lascio la parola di nuovo a Maddalena grazie mille grazie Silvio in realtà io inviterei nuovamente Francesca Tomasi a intervenire per presentare a questo punto anche il dottorato Francesca Tomasi è anche coordinatrice del dottorato in patrimonio culturale nell'ecosistema digitale quindi adesso ci racconterà facciamo prima il dottorato effettivamente nelle slide scusate mi sono invertito le cose sì l'esperienza formativa del corso di laurea magistrale può in qualche modo trovare una forma di continuità nel dottorato il dottorato è partito l'anno scorso con quello che era il trentottesimo ciclo quindi questo è il secondo anno con il trentanovesimo ciclo grazie soprattutto all'interesse all'impegno e alla volontà di far partire un'iniziativa di questo tipo a livello di Ateneo dalla nostra prolettrice cioè da Giuliana Benvenuti perché è stata lei che ha proposto l'idea di avviare un dottorato che avesse come obiettivo quello di far dialogare fra di loro numerosi dipartimenti dell'Ateneo di Bologna quindi la cosa forse più interessante di questo dottorato patrimonio culturale nell'ecosistema digitale o che altro nell'herit digital ecosystem che identifica un po' questo cede che è il nostro acronimo è che si tratta di un collegio costituito da 21 docenti che vengono da 12 dipartimenti dell'Ateneo di Bologna tutti i dipartimenti di area umanistica compresa l'economia la psicologia quindi le humanities intese in senso estensivo quindi area 10 area 11 area 12 area 14 e il dipartimento di scienza e ingegneria perché ovviamente rappresenta un elemento importante abbiamo detto fondamentale della formazione perché è vero che anche con il dottorato vogliamo ribadire l'importanza dell'approccio teorico della riflessione critica della capacità di porsi domande di ricerca relativamente agli oggetti della trasmissione del patrimonio culturale è anche vero che l'aspetto digital soprattutto inteso come pensiero computazionale da un lato e capacità di realizzazione di quanto teorizzato sono altrettanto fondamentali siamo partiti con una decina di borse l'anno scorso altrettante borse quest'anno quindi abbiamo più o meno partiremo con una ventina di cioè quest'anno avremo più o meno una ventina di dottorandi e come vedete le tematiche di ricerca non sono strettamente di digital humanities ma cercano un po' di affrontare tutto il tema del dialogo e dello scambio e della riflessione critica che si situa diciamo in quella intersezione fra le discipline tradizionali stampo umanistico e come diciamo in qualche modo le tecnologie possano intervenire nella ridefinizione dei presupposti teorici metodologici e tecnici delle discipline umanistiche quindi sempre con un'attenzione speciale all'innovazione nel campo dei saperi umanistici torno indietro faccio anche ancora uno grazie presento due cose quindi questa come il cede è come coordinatore del dottorato e presento anche già che siamo che sono seduta il DARK DARK invece sta per Digital Humanities Advanced Research Center è un centro nato con la prima eccellenza FICLIT quindi prima in realtà cronologicamente del dottorato perché se il corso di laurea è partito nel 2017 l'anno successivo l'idea è stata quella di affiancare all'offerta formativa del corso di laurea un centro di ricerca mentre il dottorato è stato ancora successivo un centro di ricerca che avesse come scopo e obiettivo innanzitutto quello di creare appunto un gruppo di lavoro i docenti del corso di laurea sono i membri del comitato scientifico del centro di ricerca quindi anche in questo caso docenti del FICLIT docenti di informatica principalmente il connubio adesso forte è fra Dizi e FICLIT e nell'ambito di questo centro di ricerca oltre a portare avanti ovviamente la nostra ricerca individuale su vari aspetti come vedete soprattutto edizioni creazioni di collezioni digitali archivi anche in senso proprio insomma raccolte archivistiche sviluppo di strumenti applicazioni lo scopo del DARK oltre appunto di aggregare i progetti di ricerca che ci vedono diretti partecipanti è quello di aprire uno spazio per i tirocini degli studenti sia del corso di laurea che del dottorato quindi prima Silvio insisteva appunto sull'importanza del tirocino il DARK è una delle opportunità offerte ai ragazzi per fare tirocini e quindi per lavorare a fianco di come già il collega Peroni diceva di progetti veri di progetti di ricerca veri quindi non di sperimentazioni fittizie ma di attività di ricerca che portiamo avanti abbiamo svariate partnership svariati visiting fellow qui dalla torta vedete un po' di casistica e soprattutto l'ultimo uno dei più recenti obiettivi del DARK è anche quello di lavorare in una prospettiva conto terzi e quindi di prestare in qualche modo servizi legati sempre alla creazione di ambienti infrastrutture applicazioni legate al tema della valorizzazione degli oggetti culturali per esterni che possono essere colleghi per l'Università di Bologna vincitori di progetti diciamo di vario tenore natura ma anche tutta quella più a livello universitario però in una componente internazionale di vincitori di progetti che vogliono avvicinarsi a questo tema grazie Francesca direi che a questo punto sì è una tua creatura anche questa quindi credo che sia giusto se vuoi due parole ma poi come dire siamo con Maddalena in linea su questo ovviamente tutte le azioni adesso breve Maddalena vi presenterà il laboratorio di digitalizzazione tutte le operazioni facciamo uno dei primi prodotti in realtà è stato dell'attività del dark quindi quando abbiamo iniziato a lavorare insieme abbiamo detto qual è la prima cosa la prima urgenza e il primo prodotto che vogliamo fare come gruppo di ricerca del dark l'esigenza all'epoca nel 2018 sempre legata al progetto di eccellenza di cui si diceva prima quando era ancora il professor Citi direttore del dipartimento è stato ok acquisiamo digitalmente poi dove la mettiamo questa roba e quindi l'idea è stata quella di sviluppare un'applicazione per ospitare le digitalizzazioni stabilire un modello di metadattazione elaborare un sistema tra Apple IEF con Mirador per garantire la massima interoperabilità interscambio ed elaborare un tracciato in Dublin Core Terms per descrivere diciamo questi oggetti anche in questo caso la Digital Library ospita oltre a fondi del FICLIT anche progetti che in qualche modo nascono dalla collaborazione con altri enti istituzioni del territorio bolognese principalmente perché qui l'obiettivo in qualche modo è stringere le relazioni con le istituzioni culturali grazie grazie Francesca adesso è il momento di presentare un'altra delle creature del FICLIT un altro dei petali che compone il progetto Bold cioè il laboratorio di digitalizzazione ADLAB analogico-digitale ecco il laboratorio che è molto giovane è sorto nel 2019 grazie anch'esso ai finanziamenti ottenuti dal FICLIT con il primo progetto di eccellenza 2018-2022 di fatto si occupa di quella che è la prima fase della fase iniziale dei progetti di valorizzazione digitale dei contenuti e del patrimonio culturale cioè appunto l'acquisizione l'acquisizione digitale ADLAB si è dotato in questi anni di tecnologie sofisticate abbiamo attualmente nove scanner fra cui scanner planetari scanner plani scanner per i microfilm microscopi per l'analisi multispettrali e siamo diciamo in procinto anche di arricchire la nostra dotazione con attrezzature molto sofisticate proprio per l'indagine multispettrale sulle stratigrafie ecco e di fatto è in grado oggi di operare di acquisire digitalmente materiali e fonti analogiche di tipologie estremamente varie sia per quello che riguarda i supporti sia per quello che riguarda i formati quindi possiamo passare dal manoscritto all'incunabulo al microfilm appunto a fotografie manifesti quotidiani mappe geografiche e quant'altro ecco Adilab si è anche dotato di una struttura interna e opera grazie anche diciamo in sinergia tra le competenze e il know-how che hanno acquisito i docenti del FICLIT nei rispettivi campi e anche il personale tecnico del laboratorio e di fatto è in grado oggi di gestire tutto il processo di acquisizione digitale dalle fasi iniziali e preliminari fino alla pubblicazione finale e nel fare questo opera appunto come ha ricordato più volte Francesca in stretta sinergia con il Dark di fatto meno di quattro anni possiamo dire di aver già raggiunto una cifra di digitalizzazione insomma di tutto rispetto abbiamo ormai acquisito oltre 535 mila digitalizzazioni e soprattutto abbiamo avviato numerosi progetti e collaborazioni sia interne al Dipartimento e all'Ateneo sia verso l'esterno perché anche il laboratorio Adilab si è aperto ai servizi conto terzi ecco di fatto ad oggi abbiamo all'attivo più di 14 progetti e collaborazioni fra gli altri vorrei ricordare il fondo cultura che permette attraverso anche qui la collaborazione con il sistema bibliotecario di Ateneo di valorizzare e digitale e digitalizzare il patrimonio delle biblioteche di area umanistica e giuridica dell'Ateneo di Bologna ma abbiamo anche numerose collaborazioni con altri enti del territorio posso ricordare fra gli altri la Casa Carducci la Fondazione Zeri l'Archivio di Stato di Modena e altri enti archivi biblioteche bolognesi non solo l'ultima cosa che vorrei ricordare e che mi preme sottolineare è che anche Adilab non è solo un laboratorio al servizio dei docenti e dei ricercatori del FICLIT ma è anche uno spazio un cantiere aperto dove gli studenti possono fare didattica didattica specialistica nell'ambito appunto del corso di laurea magistrale o del dottorato ma anche svolgere tirocini quindi anche Adilab è un luogo che si affianca agli altri alle altre strutture al dark dove gli studenti possono di fatto scendere in campo e sperimentare direttamente in prima persona le attività di digitalizzazione quindi tutto il workflow di fatto complesso che accompagna le fasi di acquisizione digitale di valorizzazione digitale dei beni culturali ecco io mi fermerei qui e inviterei invece Paola Italia che è la nostra referente per la terza missione è una filologa italiana nonché specialista di filologia d'autore e di editoria edizioni digitali quindi le lascerei la parola grazie Natalena buongiorno a tutti a tutti io ho seguito questa avventura dall'inizio posso dire perché mi sono trasferita a lavorare qui a Bologna dalla Sapienza dove insegnavo nel 2016 17 quindi proprio agli albori e in questa biblioteca io che sono una filologa e studio manoscritti moderni i manoscritti di Leopardi di Manzoni porto i miei studenti il primo anno quindi assisto al loro shock di fronte alla visita di una biblioteca spettacolare come questa in un corso che si deve occupare invece di filologia digitale e questo però è il miglior benvenuto che possiamo dare ai nostri nuovi studenti pensate che molti vengono veramente da luoghi lontani da Bologna abbiamo classi internazionali studenti dal nord dal sud America dall'Oriente dal Pakistan dalla Canada e questo in effetti è proprio il cuore della novità di questo corso e di questo progetto che come vedete ha varie ramificazioni quello di cui vi parlo ora in cinque minuti è la parte relativa alla terza missione sicuramente questo è un termine nuovo per gli studenti che sono qui tra di noi forse anche per qualche studente universitario quindi non solo per gli studenti delle scuole superiori che sono qui numerosi il termine non è nemmeno molto diffuso perché viene anche utilizzato il termine di impegno pubblico però è semplice da capire noi siamo docenti nell'università la prima missione è quella della didattica la seconda missione è quella della ricerca e questa è una terza missione di che cosa si occupa del trasferimento delle conoscenze sul territorio quindi di tutto ciò che noi possiamo fare per portare la nostra ricerca e anche la nostra didattica quindi le nostre competenze sul territorio che qui vedete nella slide rappresentato nei tre elementi che sono la società l'impresa e la scuola noi abbiamo lavorato molto perché come potete immaginare il dipartimento di filologia classica italianistica ha moltissime attività di trasferimento di conoscenze per quanto riguarda la società quello che si chiama in inglese public engagement cioè impegno pubblico perché facciamo mostre corsi presentazioni di libri attività di divulgazione addirittura organizziamo festival e non solo qui a Bologna i numeri sono molto alti mi ho portato il rendiconto del 21 perché noi facciamo come la dichiarazione dei redditi e cioè rendicontiamo l'anno precedente nel 21 abbiamo fatto dei numeri pazzeschi ma perché avevamo l'effetto Dante che un po' ha contribuito abbiamo fatto 51 eventi solo per Dante abbiamo coinvolto più di 700 mila persone ovviamente non tutti in presenza ma moltissimi anche con attività digitali quindi con video con lezioni con conferenze online e abbiamo fatto però tante attività che non ha riguardato Dante quindi diciamo togliamo l'effetto Dante che fa un po' doping abbiamo fatto 50 eventi più di 110 mila persone che abbiamo raggiunto sono numeri impegnativi questo fa capire che il nostro impegno nell'ambito pubblico è molto forte però per le digital humanities abbiamo fatto anche qualche altra cosa che è più originale perché questo diciamo viene fatto normalmente veniva sempre fatto ora lo cominciamo a misurare ma l'abbiamo sempre fatto invece per le digital humanities abbiamo cominciato a lavorare molto col mondo della scuola e abbiamo proprio fatto varie iniziative vedete che nella torta di sinistra il public engagement fa la parte del leone 89% e invece l'attività di formazione è il 10% già nel 2022 questo 10% è aumentato cosa si fa col mondo della scuola facciamo proprio dei facciamo varie cose ma corsi di formazione anche per insegnanti ma quello che secondo me ora vi dà più il senso della trasversalità delle digital humanities sono i corsi di alternanza scuola-lavoro e cioè i cosiddetti PCTO e che cosa facciamo con i PCTO? facciamo varie cose e racconto in breve per farvi capire concretamente in che cosa consiste l'incontro tra il mondo della società della scuola e le digital humanities per esempio abbiamo fatto un progetto dal 2019 che abbiamo intitolato adotta un commento ai promessi sposi io so che dicendo promessi sposi gli studenti non sono entusiasti però in realtà abbiamo fatto fare gli studenti un lavoro particolarissimo cioè gli abbiamo insegnato a marcare i testi quindi gli abbiamo fatto un brevissimo corso di codifica XMLTI e il romanzo è stato marcato abbiamo coinvolto più di 500 studenti e più di 30 scuole ma non tutti qui ovviamente perché i corsi sono stati fatti in parte in presenza ma in parte online eravamo in piena pandemia e i PCTO dovevano essere fatti lo stesso e quindi questi sono stati corsi che hanno marcato il romanzo e sono diventati un progetto che voi trovate digitando anche sul telefono si dice di solito via i telefoni no invece noi diciamo sempre ai nostri studenti tenete il telefono però usatelo correttamente se digitate in Google tra virgolette ovviamente se no trovate tutto il mondo se digitate leggo manzoni leggo manzoni tra virgolette entrate nel nostro progetto che è la una piattaforma in cui si leggono 40 commenti alla quarantana cioè l'edizione del 1840 del romanzo e anche un viaggio nelle immagini prima si è parlato di laboratorio digitale e di digitalizzazione del patrimonio culturale abbiamo digitalizzato l'edizione del 40 dei promessi sposi e abbiamo costruito un percorso attraverso le immagini attraverso i personaggi i temi gli incisori attraverso le modalità di costruzione della pagina insomma è un lavoro molto bello e se vi dico che l'hanno realizzato degli studenti della magistrale ma che una di queste studentesse era russa capite bene in che tipo di ambiente lavorano i nostri studenti e poi abbiamo fatto altri PCTO legati alla scrittura digitale alle fonti in rete quindi alla certificazione delle fonti e l'ultimo che ci siamo inventati si intitola testi artificiali quindi imparare a usare chat GPT in modo intelligente mi fermerai qui perché siamo già un po' in ritardo però insomma credo che il sito vi possa poi presentare tutte queste attività basta andare anche nel sito del nostro dipartimento terza missione li trovate tutto grazie grazie